La gamma dei nebulizzatori Rafale Arti si completa con la nuova versione con pannelli recuperatori DS. L'esperienza di Caffini in questa tipologia di prodotti risale al 2006 quando presenta la gamma Driftstopper brevettata e che ora trasferisce alla gamma Rafale Arti. L'obiettivo di Rafale come in tutta la vasta gamma degli atomizzatori Caffini è quella di andare a bersaglio con la maggior quantità di miscela possibile in maniera uniforme su tutta la vegetazione e sul grappolo. Il modulo irrorante è agganciato ai tre punti del trattore per agevolare le manovre in spazi ristretti e per la circolazione stradale grazie all'omologazione Mother Regulation non è necessario attaccarlo ad un timone ad occhione. La turbina è la potente KV33 utilizzata nel Rafale Pro a sei facciate con frizione ad espansione centrifuga e cambio a due velocità. La nuova chiocciola in polietilene rinforzato e fonoassorbente scongiura possibili corrosioni e riduce il rumore durante il lavoro. Il robusto telaio in acciaio strutturale e le guide di scorrimento sui tubolari sfilabili rendono Rafale più durevole così come il trattamento di cataforesi e la verniciatura polveri e possidiche. I pannelli recuperatori hanno un telaio in acciaio inox, una molla a gas anti shock in caso di contatto con ostacoli e sono realizzati in PVC resistente e antigraffio che ne caratterizzano l'estrema leggerezza. La miscela nei pozzetti di recupero viene trasferita nel serbatoio principale previo filtraggio. Le soluzioni proposte sono estrema leggerezza complessiva e baricentro basso per un sicuro utilizzo in pendenza, alta manovrabilità nella fase di inversione di marcia con cardano sempre inserito, maggiore stabilità dei pannelli con gli sfili a tubolare rispetto ai nebulizzatori scavallanti con struttura a compasso. Una grande produzione giornaliera di circa 2,5 ettari ora. Alla prossima!